Buongiorno ragazze, oggi vi volevo parlare di un'altra scrittrice che mi piace molto, si chiama Penny Raid. Lei ha creato un sequel di Fratelli Winston che hanno la particolarità di avere tutti la barba, sono sei, cinque hanno la barba perché sono maschi, uno no perché è femmina. Il primo libro che ha scritto e che ho letto si chiama Obbligo verità che barba l'amore. Si chiama così perché, vabbè che barba l'amore perché appuntano tutti quanti la barba, i protagonisti, a me non piacciono gli uomini con la barba ma si vede che l'autrice sì. Obbligo verità perché inizia il libro proprio quando i protagonisti fanno una festa, lei si chiama Jessica James e lui è Dwayne Winston, uno dei gemelli Winston. E fanno Obbligo verità e alla fine si danno un bacio perché Jessica pensa sia Ben che l'altro gemello di cui lei ha una cotta fin dall'adolescenza. In realtà invece si tratta di Dwayne, lei non l'aveva riconosciuto e con l'obbligo, cioè con la verità, riesce a scoprire che Dwayne l'ha sempre trattata male perché in realtà è da quando era ragazzino che è innamorato di lei. Diciamo che c'è un unico problema, lei pensa di essere affetta dalla wanderlust che sarebbe la necessità di viaggiare. Non ha mai viaggiato perché prima si è laureata e è diventata insegnante proprio per avere un lavoro che le permettesse di viaggiare. Lei non vuole viaggiare due o tre settimane all'anno, vuole proprio vivere in viaggio. Devo dire che questa è una cosa che mi è piaciuta tantissimo perché pure io adoro viaggiare e mi piacerebbe tantissimo vivere viaggiando. Fare la blogger un po' mi ha aiutato in questo, di essere abbastanza flessibile, posso partire quando voglio però nei limiti delle vacanze scolastiche che hanno i miei figli perché in genere parto comunque con loro. Lui fa il meccanico insieme al fratello e quindi lei pensa che non potrebbe mai lasciare la sua azienda per partire insieme a lei. Comunque dovete leggere il libro per vedere se ha ragione oppure no. Vi lascio un abbraccio. Ciao Angela!